Salve a tutti, dopo Schumacher e Vettel il testimone è ora nelle mani di Nico Hülkenberg, ma prima c'era un pilota tedesco che aveva tutto per sfondare in Formula 1, Stefan Belloff. Il destino, come vedremo, è stato di tutt'altro avviso. Velocissimo, grintoso, vincente e con i kart in Formula Ford, Formula 3 e Formula 2, dove vinse al debutto su pista bagnata Silverstone con la Maurer, a fine 83 effettuò un test con la McLaren insieme a Senna e Brandl, ma era già pilota Rothmans e non venne concesso alla concorrenza dei tabacchi. In Formula 1 esordì allora il Gran Premio del Brasile 84 con la Tyrrell, unica ancora col motore Ford aspirato, per esaltarsi ed esaltare già al famoso Gran Premio bagnato di Monaco, dove si classificò terzo alle spalle di Senna su Toleman, dopo una rimonta incredibile danzando sull'acqua, autore di numerosi sorpassi da brivido. Il risultato fu comunque poi annullato perché la Tyrrell correva sotto peso. All'impegno in Formula 1 il tedesco univa la partecipazione al Mondiale Endurance con la Porsche, campione del mondo 1984. Anche al volante di quei bestioni dimostrava talento e coraggio e lo strabiliante record in qualifica al Nürburgring 6 minuti 11 secondi e 13 centesimi è qualcosa di cui stupirsi ancora. Fino al fatidico primo settembre 85, giorno della 1000 km di Spa. All'ultimo pistop, Bellof vicendò al volante della Porsche 956B del Team Brun il compagno Butsen, per lanciarsi all'attacco del leader della gara, il veterano JTX sul Porsche 962C ufficiale. A una manciata di giri dal termine lo affianca nella discesa verso l'Eau Rouge. Il belga imposta la curva e i due si toccano. Bellof alla peggio e si schianta frontalmente a circa 250 km orari, riportando lesioni toraciche, frattura le gambe e un colpo alla testa, con l'auto semidisintegrata che prende pure fuoco. Nell'83 in Formula 2 era rovinosamente uscito di pista nello stesso punto. Poi le polemiche, un sorpasso azzardato, una difesa eccessiva. A 27 anni se ne andava così un pilota alla Villeneuve, tanto da aver destato l'interesse di Enzo Ferrari, che di lui disse «Chi di risolutezza ne aveva molta era bello, fu un pilota sul quale avevo fatto un pensiero, figurandomi però quanto difficoltoso sarebbe stato il controllo di tanta combattività. La Germania faceva i conti con la malasorte. Solo un mese prima era deceduto Manfred Winkelhock a Mosport e nell'83 Rolf Stommelen alla sei ore di Riverside. Di Bellof, Willi Maurer disse «In qualche modo, in qualche anno, sono certo che sarebbe diventato campione del mondo di Formula 1». Grazie per l'attenzione. Se il video è stato di tuo interesse, lasciami un like e valuta l'iscrizione al canale, azionando anche la campanella, così sarai informato delle prossime uscite. Ciao!